Good evening ladies and chamberlain e bentornati ancora una volta su NBA 2K16 uno spacchettamento preliminare prima di quello che ci aspetterà a Natale sì perché comunque il giorno della vigilia non posso privarmi di uno spacchettamento ovviamente dato che il giorno della vigilia è giovedì stiamo parlando ovviamente di un throwback Thursday quindi giustamente perché non farsi venire il fegato a marcio il giorno di Natale a parte questo continuiamo invece con un po' di scofanamenti non di spacchettamenti perché apriamo cofanetti questa settimana ovviamente abbiamo 200.000 vicini e apriremo 3 uno VIP League, uno Moment e uno Dynamic Rating vediamo che cavolo tireremo fuori ma lo sappiamo che ogni volta è la stessa storia ma cosa vi devo dire? speriamo nel caso o meglio speriamo proprio in una botta di culo di quelle da far paura ma siamo un po' poveri di botte di culo vediamo un po' allora argento, oro tre argenti, un bronzo e un oro no 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 ok quindi un giocatore ora ed è e cominciamo con i doppioni a Sun White Side e questo era il primo pacchetto vediamo un po' il secondo il secondo no onestamente non so cosa aspettarmi a questo punto siamo partiti vabbè alla fine direte è sempre un doppione quindi ok pacchetto Schifus questo di Johnson ce l'avevamo pure più che altro ormai questi spacchettamenti li sto facendo per guadagnare qualche MD e cercare di fare cercare di chiudere le collezioni ne ho già chiuso un bel po' della stagione regolare Dynamic Rating non ci sto nemmeno provando perché si parla di spendere milioni ok un oro, due ori ok due bronzi in ragionamento e uno e due ori sicuramente nella ragionamento c'è un giocatore no va che cura vediamo un po' adesso ci dobbiamo counter doppio più tanto per cambiare due pacchetti, due doppioni siamo partiti col botto ragazzi non poteva andarci meglio numero tre vediamo che cosa ci possiamo augurare Drazen però Drazen non ce l'avevamo onestamente io continuo a bestemmiare quando vedo che gli mettono 77, 75 ma chiaramente loro hanno veramente la tocchia questo pregiudizio secondo il quale i giocatori che vengono che giocavano in Europa o che facevano i numeri in Europa fossero un pochino più scarsi basta vedere il fatto che avevano messo 68 a Gentile anche 74 a Dacet per dire ma in un certo senso il 77 a Drazen Petro invece una non dico una bestemmia ma quasi altro pacchetto schifo altro giocatore schifo dicevo non dico che doveva essere un ammettista da 90 o roba del genere però almeno uno tanto tanto uno sarebbe stato un po' più onesto considerato il giocatore considerato che comunque ha lasciato un bel ricordo pace all'anima sua nei tifosi e in chi ha potuto vederlo e vedere che cosa poteva che cosa poteva e sapeva fare tanto altro cofanetto di Argentoni vediamo il cofanetto numero 5 sì 5 dovrebbe essere sì no 7 figurati stavo lasciando andare i miei pensieri e non mi sono accorto che eravamo andati un po' più avanti vediamo no perfetto no ti prego ok quindi c'è un altro giocatore oro ed è bosh vabbè altri soldi altri soldi va sempre bene quando si fanno soldi va bene va sempre sempre bene vediamo il numero 8 numero 8 vediamo un po' argento argento bronzo tutto argento lasciamo perdere immagino anche quasi tutto doppio sì infatti penultimo pacchetto ho trovato tanti doppi ma onestamente ve l'ho già detto abbiamo mille passacarte quindi in questi pacchetti è quasi logico trovare trovare doppioni più che altro siamo allora quanti ne mancano mi ricordo sarà 1050 o 1150 il il prossimo step dei dei livelli collezionista credo 1050 mi sa che era Bill & Beer se non mi sbaglio adesso non mi ricordo con esattezza tanto abbiamo un argento un bronzo due argenti tre argenti ok non c'è un giocatore ed è un oro ed è porca miseria parlando di giocatori europei Sabonis uno che a sentire a sentire certi esperti se fosse arrivato in NBA dieci anni prima probabilmente non avremmo mai sentito parlare di Jordan anche se forse è un po' esagerato di parlarne in questi termini tanto abbiamo finito il il primo VIP league o meglio l'unico VIP league che apriremo e diamoci dentro con le bestemmie vere e proprie vai con i dynamic rating comunque mi sa che riusciamo ad aprire 4 non 3 vediamo adesso che cosa troviamo invece in questo dynamic rating inutile dire che preparatevi perché sta per arrivare il momento io che mi lamento dei pacchetti dynamic rating ed è tutta la questione della questione delle aste dei dynamic rating eccetera eccetera no beh ve lo risparmio questa settimana ve lo risparmio anche perché siamo sotto Natale a Natale si è tutti più buoni e si evita di smadonnare anche se è difficile con questi panchetti anche perché il massimo di dynamic rating che ho trovato è non saprei neanche dirvelo perché sono tutti argenti intanto continuiamo a beccare schifo ma schifo proprio per essere schifo pacchetto number 3 sempre che arrivi ecco qua ok un argento due argenti un oro tre argenti un bronze e un oro ok no no ok no invece si parsons dinamico ecco mi stavo lamentando dei dynamic rating ne ho beccato uno adesso tra parentesi mi sa che è anche sceso perché parsons normale c'ha 79 quindi è sceso di un punticino comunque qualunque sia il lo step dei livelli collezionista lo stiamo per scoprire perché siamo a mille mille e quarantasei carte quindi vediamo un po' che cosa vediamo se mi ricordavo bene ok bronzo argento bronzo parchetto schifo andiamo avanti tony douglas non ce l'avevamo per quanto non per quanto non ne vada fiero non ce l'avevamo siamo a mille quaranta sette ok mille e quarantasei vediamo quest'altro adesso che cosa ci dobbiamo aspettare pronti prontissimi siamo già al giro di body questo caffanetto dynamic rating abbiamo un argento tre argenti quattro argenti cinque argenti schifo andiamo avanti è inutile dire che come al solito non sono soddisfatto ma onestamente io non saprei neanche in che modo si possa risolvere questa faccenda perché attenzione un oro lasciamo perdere dicevo non so in che modo si può risolvere questa faccenda proprio non non se ne viene fuori gli youtuber americani come al solito si stanno lanciando campagne su campagne ma cambia veramente poco non se ne poi onestamente i diamond throwback i diamond throwback non è che mi facciano impazzire l'idea perché alla fine sono delle moment card pompate allo schifo tipo l'ultima Jamal Crawford dei 50 punti manco mi avessi detto e c'ha 96 intanto un altro dynamic rating c'ha fatto 50 punti una partita 8 anni fa e l'hai l'hai fatto diventare un diamond player da 96 per dire stat curry dynamic c'ha quel rating jordan dovrebbe avere quel rating quando quando uscirà o quando lo si troverà nelle nei livelli collezionista quindi per farvi capire cioè era necessario perlomeno se devi fare dei dei diamond throwback così falli di giocatori conosciuti anzi non conosciuti giocatori di un certo livello che cavolo ne so se proprio devi fare un diamond throwback intanto 3 bronzi 1 oro scommettiamo che c'è un giocatore no ok e infatti Arinze Onwaku complimenti ai genitori siamo a 1050 dovrebbe arrivarci forse mi ricordavo male vediamo un po' eh si mi ricordavo malissimo diciamo se proprio devi fare un diamond throwback proprio seguendo questa logica cioè un giocatore un giocatore in un momento del passato della sua carriera l'ha fatto una partita di un certo livello mi prendi comunque di giocatori conosciuti comunque di giocatori delle tra virgolette delle star per esempio un diamond throwback logico sarebbe tanto 3 ore attenzione altra volta canter doppio dicevo un throwback un throwback diamond serio sarebbe per esempio il Kobe Bryant degli 81 punti quello sì l'avrei accettato tranquillamente tanto giusto per continuare con le bestemmie apriamo anche il cofanetto moments vediamo un po' cosa viene fuori se non mi svolgono non ho ancora trovato una momentoro ho soltanto trovato in safforni e delle quillian vediamo cosa esce a sto giro subito franchetto Gifus e passiamo oltre che torno numero 2 vediamo un po' ok schifo anche questo giro vabbè schifo mica tanto un altro momento Argento Mario Cialmo e andiamo avanti come dicevo le Diamond Throwback se fatte con un certo criterio hanno senso ma se mi devi mettere un Jamal Crawford qualunque meglio se smetti prima che sia troppo talide attenzione un altro lasciamo stare Diamond Throwback se devi fare falli con una logica falli mettendo giocatori che potrebbero interessare alla gente non facendo svenare la gente dietro a un Jamal Crawford diamante cioè proprio non riesco neanche a realizzarla la cosa eppure qualcuno si è lanciato perché ha visto 96 di overhaul carta diamante sì il problema è che nello stesso throwback hanno messo tre giocatori squalliderrimi tanto per cambiare perché sono partiti col voto ma anche sto giro la metiste squallide voglio dire giocatori squallidi le throwback se forse abbiamo un oro no non abbiamo un oro cioè non è che la cosa faccia non è che faccia piacere alla gente spendere i miliardi dietro a queste cose puoi trovare questo genere di giocatori sperando di trovare chissà che avevo detto all'inizio che la questione della rarità è stata gestita bene dalla 2K ma adesso stanno lasciando un po' stanno lasciando un po' andare ci hanno preso un po' la mano e ci stanno anche prendendo per il culo tanto un'altra ora attenzione non va via neanche per 2000 mp tanto vuole fare i pixel andiamo avanti ho perso già il fio del discorso quindi non lo continuo 4 raggiunti un oro no no ok no aspetto no ok abbiamo un oro quindi è John Wall forse qualche soldino riusciamo a farcelo forse che ci riusciamo il panchetto numero 9 andiamo a sto giro un altro panchetto abbastanza squallido proseguiamo a monte siamo al jalpin l'ultimo momento mi sa che avanza qualcosa forse riusciamo con dei pacchetti VIP ok no no ok no 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 solita solita piuttosto disgustosa ok adesso mi sa che chiudiamo con dei sì con dei VIP leag più a casa perlomeno quelli dove forse bisogna trovare qualcosa di decente quindi meglio di nulla ok appena finito di dire abbiamo trovato lo schifo vediamo un altro ma inizio ad essere molto poco fiducioso e su tu che e fammelo un regalo di Natale e che ti costa no eh vediamo anche questo quanti ne dovremmo poter aprire credo altri due non vorrei sbagliarmi due o tre comunque chiudiamo con questi pacchetti ancora l'argento ok finalmente un oro no no ok no ti prego dai perfetto vediamo l'oro ed è eh che cazzo grazie Jane Rose mi fa molto piacere ma molto ma veramente tanto ok credo ancora uno fammi vedere mi pare proprio di sì uno no chiedo scusa altri due dai mi hai regalato Jane Rose fai altro per favore dacci dentro due ore addirittura due ore io non veramente non potete non potete offendermi in questo modo insultare alla mia intelligenza in questa maniera vediamo l'ultimo pacchetto cosa esce fuori ma se tanto mi da tanto insomma capite no vediamo un po' no schifo totale si chiude così uno pacchettamento di un pacchettamento di qualità pessima come al solito del resto e direi che ci possiamo salutare qui l'appuntamento ve lo dico in anticipo è per il video di Natale non aspettatevi chissà che però meglio fare qualcosa anche a Natale giusto per non giusto per non giusto per non giusto per non lasciarvi senza video anche nel giorno più importante dell'anno e poi anche perché dopo Natale non ci vedremo non ci sentiremo per un bel po' meglio lasciarvi con un bel ricordo diciamo perciò vi do appuntamento sì al prossimo video l'abbiamo detto buon Natale